La palla giocattoli Avvocato Luca Paparozzi All'inizio della riunione si è detto che una volta le persone disabili erano, diciamo, la messa ai limiti della società Negli ultimi anni la tendenza sta cambiando? No, assolutamente, con la normativa sull'amministrazione di sostegno abbiamo la possibilità di avere persone tutelate e protette Ed una giustizia vicino alle esigenze di questi soggetti In che modo? Attraverso una dinamica ed un vestito operativo che viene creato sulle esigenze di queste persone dal giudice tutelare E con il lavoro dell'amministratore di sostegno Ancora affermo nel mio cuore il pensiero di tanti genitori, di ragazzi e di persone disabili Che avevano la paura di confrontarsi con le istituzioni, di comprendere appieno perché Il dramma, perché in alcuni casi c'era un dramma vero e proprio che si viveva all'interno delle famiglie Doveva essere monitorato dalle istituzioni Quindi le istituzioni e la giustizia che si infrapponevano e che entravano dentro le famiglie E non fare Questa lettera, non diceva lei Ecco, ma ci siamo per capire che non dobbiamo preoccuparsi dei parenti che ci sono Cioè noi abbiamo dei genitori molto anziani, parenti E poi abbiamo dei genitori molto anziani, spero che però